oh è qua se volete guarda adesso ti mando un video ce l'ho in braccia ce l'ho molme se volete venire qua uno di voi due con gli scarponi o voglia di camminare se non riaccompagna più la casa eh dai da sasia da sasia ok dai poi chiama minaccia se no vado a mettere i miei scarponi te l'accompagno io eh ciao 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 ti pianto un puglio sulla testa eh ciao oh si 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 eh mordimi mordimi bravo 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 ciao ciao stupidone